Ciao a tutti! Quando si parla di tirannia e di dittatura, la narrativa comune è che vi siano dei cattivi, malvagi, tiranni e dittatori che dominano e controllano tutta la innocente e vittima popolazione. Ma la verità non è proprio così. Ovviamente è vero che principalmente chi occupa posizioni di tirannia e dittatura siano persone con gravi disturbi psicopatici, narcisisti e con gravi mancanze di empatia e gravi sete di controllo e potere. Ma c'è un'altra parte, un'altra sfaccettatura di questa storia che spesso non viene raccontata. E questo video ha l'obiettivo di raccontare quest'altra sfaccettatura. Vedete, i tiranni e i dittatori infatti non sono esseri che spuntano dal nulla e che iniziano magicamente a controllare gli altri. Vi è tutta una storia dietro. Vi è tutto un processo di socializzazione, un processo sociale, un processo culturale che porta a quel risultato. E oggi vediamo questo processo. Le popolazioni che generano tirannia e dittatura sono quasi sempre, senza eccezione, popolazioni che vivono in una forte mentalità di scarsità e di irresponsabilità. E questo si protrae in un circolo vizioso. Cosa voglio dire? Prendiamo come esempio la Cina. Non perché la Cina sia l'unica dittatura, sia l'unico esempio di dittatura nel mondo, ma perché per gli occidentali è l'esempio più chiaro. Le persone che nascono in una popolazione di scarsità, di assenza di responsabilità, sono persone che fin da piccole vengono indottrinate, vengono socializzate, vengono acculturate, conformate ad una disconnessione dal sé più profondo, dalla propria parte più alta. Tutti noi, infatti, potenzialmente, naturalmente, abbiamo una connessione con il tutt'uno, con il divino, se vogliamo, con Dio, se siete religiosi, con quella fonte di coscienza, di energia universale infinita. Ma in molte culture, come anche quelle occidentali, in molti processi di socializzazione, attraverso la famiglia, la scuola, il media, il lavoro, eccetera, veniamo disconnessi da questa nostra connessione. Un esempio di questo indottrinamento è l'indottrinamento del materialismo. L'indottrinamento del materialismo ci disconnette dalla nostra connessione con il nostro sé più alto, con il tutt'uno, con la coscienza, con l'empatia e con il nostro spirito. Ci protrae il mondo come un essere materiale, privo di coscienza, privo di spirito, esterno, disconnesso, e quindi ci incita al narcisismo. Ora, se noi siamo disconnessi dal nostro sé più alto, cosa significa? Significa che entriamo in uno spazio di scarsità, non abbiamo più accesso a quella fonte di coscienza, di energia infinita, e quindi siamo privi di quell'energia, di quella coscienza. E quindi come possiamo sopravvivere? Per sopravvivere dobbiamo rubare, dobbiamo prendere quell'energia dall'esterno, perché siamo convinti di non averla internamente. Ed ecco che quindi la mentalità di scarsità, ovvero di disconnessione col nostro sé più alto, col nostro potenziale, ci porta ad una mentalità del tutto mi è dovuto. Le persone che sono disconnesse dal proprio sé più alto iniziano a cercare di prendere ed arraffare e derubare dall'esterno. E solitamente dove inizia questo? Solitamente questo inizia con madre terra. Iniziamo a derubare madre terra delle sue risorse, iniziamo a scavarla e toglierle i suoi minerali, iniziamo a distruggere le sue piante, iniziamo a bruciare i suoi elementi, iniziamo ad uccidere i suoi animali. E una volta che abbiamo derubato madre terra, iniziamo anche a derubarci tra di noi, tra noi umani, iniziamo ad utilizzare l'inganno, iniziamo ad utilizzare l'imbroglio, iniziamo a cercare di intrappolarci a vicenda, manipolarci a vicenda e così via. Tutto questo è uno stato di mentalità di scarsità che deriva dalla disconnessione dal nostro sé più alto, quindi dalla nostra empatia, dalla nostra coscienza, dal nostro spirito e quindi dalla nostra connessione con tutto il resto. Le persone quindi che sono in questa mentalità di scarsità e quindi del tutto mi è dovuto e quindi di narcisismo, perché è un narcisismo collettivo, queste persone normalizzano l'idea di prendere dall'esterno con la forza, con la violenza, con la pressione, imponendosi sull'esterno. Quindi la violenza, la forza, il ricatto, la minaccia eccetera diventano processi normalizzati. Le popolazioni che vivono in questa mentalità di scarsità entrano quindi in uno stato di irresponsabilità e cercano di delegare questa forzatura, questa violenza ad altre persone, pagando altre persone per mettere in atto violenza e forzatura per loro. Ad esempio iniziamo a pagare i macellai per uccidere gli animali per noi, iniziamo a pagare un sistema legale o di giustizia per forzare con la violenza, con il ricatto, con la minaccia le nostre regole sugli altri. Iniziamo a pagare i militari per utilizzare la violenza e l'omicidio per noi. E' importante capire quindi che queste popolazioni agiscono da uno stato di irresponsabilità, oltre a vivere in una mentalità di scarsità e quindi del tutto mi è dovuto, ovvero oltre ad essere convinti di avere il diritto di derubare madre terra, di uccidere gli altri animali, di derubare madre terra delle sue risorse, di uccidere e sfruttare gli altri animali e di usare le persone e, come vedremo anche in particolare, i propri figli, le persone in questa mentalità in più vogliono anche delegare la responsabilità di fare ciò agli altri. Ovvero a queste popolazioni fa comodo avere delle persone violente, delle persone prive di empatia, delle persone psicopatiche che facciano il lavoro sporco per loro. Per questo queste popolazioni pagano ben volentieri dei politici, un sistema legale, un sistema militare, un sistema di brutalità sugli animali, che faccia questo lavoro sporco per loro, di modo che loro possano prenderne i risultati, ovvero il bottino derubato con la violenza e con la forza, da questi agenti esterni. E questi agenti esterni chi sono? Solitamente sono i narcisisti e gli psicopatici della società. I narcisisti e le psicopatici sono un naturale frutto di questo tipo di società. Infatti le popolazioni che vivono in questa mentalità di scarsità, di tutto mio dovuto, di irresponsabilità e quindi di narcisismo, naturalmente crescono, formano figli narcisisti. Perché naturalmente non vivendo in abbondanza e amore per se stessi, non sono in grado di dare abbondanza né amore ai propri figli. Anzi, queste popolazioni generalmente vedono i figli come un'ulteriore risorsa, come un ulteriore oggetto da usare. Di nuovo potete pensare come esempio alla Cina, ma tutte le nazioni del mondo, in qualche grado, in qualche modo, hanno in atto queste dinamiche. Quindi facciamo figli con l'obiettivo di soddisfare dei nostri bisogni. Ad esempio per assicurarci un piano pensionistico, oppure per avere qualcuno che ci faccia compagnia o che ci aiuti in situazioni difficili. Oppure per realizzarci come persone, per essere visti come bravi genitori e bravi cittadini dalla società. O per essere accettati dalla nostra famiglia, o per colmare un vuoto interiore, eccetera, eccetera. E queste società, generalmente, dato che sono esse stesse disconnesse dal tutt'uno, quindi dalla coscienza universale, dalla fonte, dalla loro empatia con il tutto, generalmente queste popolazioni vedono i figli non come degli esseri con una loro coscienza, una loro vita, un loro spirito, una loro identità, da nutrire, da appoggiare nella fioritura del loro potenziale, ma di solito li vedono invece come un oggetto da usare, come un pezzo di pasta da modellare, da modificare a proprio piacimento, come un foglio di carta bianco da formare come si vuole, secondo i propri bisogni e le proprie necessità. Di nuovo, un altro oggetto esterno da sfruttare, per acquisire energia esternamente. Di conseguenza, in queste popolazioni, i narcisisti sono la naturale conseguenza, sono alcuni di questi figli che diventano in maniera più estrema, disconnessi, dissociati, privi di empatia, irresponsabili, in una mentalità di scarsità, privi di coscienza. Quindi, questi individui sono il naturale frutto di una società basata su una disconnessione dal proprio sé più alto, quindi da una mentalità di scarsità e dunque di irresponsabilità e narcisismo. Quindi, questi individui più narcisisti, più psicopatici del resto della popolazione, fanno molto comodo alla popolazione. Perché? Perché riempiono quel ruolo di quegli agenti a cui delegare il lavoro sporco. C'è un motivo per cui pagate le tasse ai vostri politici narcisisti. E' perché questi politici fanno il lavoro sporco per voi. Lo stesso motivo per cui paghiamo i militari, per cui paghiamo gli allevatori di animali, per cui paghiamo la polizia e tutti quegli agenti che sono più narcisisti generalmente, perché non sempre ovviamente, però generalmente sono più narcisisti, sono più psicopatici del resto della popolazione e quindi non hanno problemi ad imporsi con la forza, con la violenza, con il ricatto, con la minaccia sugli altri, facendo il lavoro sporco per la popolazione. Questo è il motivo per cui la popolazione ha bisogno di tiranni e dittatori, oltre a tutti questi altri individui che facciano il lavoro sporco per loro. Il tiranno e il dittatore è il finale, il definitivo psicopatico estremo che riflette, che manifesta l'ombra collettiva della società, della popolazione, che quindi è la manifestazione dell'inconscio della popolazione, del narcisismo della popolazione, e che viene eletto, che viene pagato per fare tutti quei lavori sporchi che la popolazione in realtà ha comodo a delegare a qualcun altro. Ma c'è di più, non è solo quello il ruolo che svolgono i dittatori, i psicopatici, i narcisisti nella popolazione. Infatti, una popolazione irresponsabile ha bisogno di capri espiatori. Siccome non vuole assumersi la propria responsabilità, ha bisogno di puntare il dito contro qualcuno quando le cose vanno male. E contro chi meglio puntarlo se non proprio con questi agenti che fanno il lavoro sporco per noi. Contro i dittatori, contro i tiranni, contro gli psicopatici, contro i narcisisti. Loro sono la causa di tutto. Quindi, oltre a fare il nostro lavoro sporco per noi, a portare avanti i nostri contratti inconsci, i nostri scambi inconsci, queste figure, dittatori, tiranni, gli psicopatici, i narcisisti, in più, hanno l'essenziale ruolo del capro espiatorio della società irresponsabile, la società che non si vuole evolvere. Infatti, quando le cose vanno male, sono i perfetti capri espiatori contro cui puntare il dito e dare la colpa di tutta la situazione. Così la popolazione rimane innocente e priva di colpa, perché la colpa è tutta dei tiranni. Non solo. Oltre a questo, i tiranni e gli psicopatici sono degli ottimi ricercatori di capri espiatori, sono perfettamente abili nell'utilizzare la violenza, la manipolazione, per targettare degli individui da rendere capri espiatori, che possono essere, ad esempio, individui che dissentono dal sistema, individui che parlano verità, scomodi o sconvenienti, individui che quindi portano la popolazione a responsabilizzarsi e che quindi fanno molto scomodo alla popolazione, ecco, quegli individui sono i perfetti capri espiatori e chi è meglio dei narcisisti e degli psicopatici può fare il lavoro di dare la caccia a questi individui. Quindi, come vedete, i tiranni, i dittatori, gli psicopatici fanno estremamente comodo alla popolazione. Ed è questa la vera storia, ragazzi. Finché non ci svegliamo a questa verità, continueremo a ripetere la storia, perché punteremo il dito contro il tiranno cattivo, lo annienteremo e poi eleggeremo un altro tiranno, perché non abbiamo mai risolto la vera causa del problema, che è la nostra irresponsabilità, la nostra mentalità di scarsità e quindi del tutto mi è dovuto, che fondamentalmente proviene dalla nostra disconnessione col nostro sé più alto, la nostra disconnessione con noi stessi, con la nostra empatia, col tutt'uno, con la coscienza universale, con la fonte. Questa connessione che ci dà energia e coscienza infinita e che ci porta in una mentalità di abbondanza e di amore incondizionato. Finché non facciamo questo cambiamento, la popolazione avrà sempre bisogno di tiranni, di dittatori, di psicopatici, e pagherà tantissimo questi individui, li eleggerà come politici, li eleggerà come capi delle proprie industrie, gli darà un sacco di potere perché fanno incredibilmente comodo alla popolazione. Per questo dobbiamo toglierci da questa narrativa che i tiranni sono i cattivi e sono i capri espiatori della popolazione. La popolazione, tutta la popolazione, è responsabile di questa dinamica. Il cambiamento può avvenire solo se ci trasformiamo veramente, riconnettendoci con il nostro sé più alto, con la nostra empatia, con il tutt'uno, con la coscienza universale e quindi con la nostra fonte infinita di coscienza e di energia e quindi con la nostra capacità di amare incondizionatamente. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!